Vogliamo sfatare qualche mito sulla digeribilità della pizza? La pizza non è più digeribile se è lievitata a lungo e non è più digeribile perché la facciamo maturare a lungo. Il motivo per cui la pizza è più digeribile? Perché viene cotta bene. Vi faccio un esempio pratico. Prendete della farina, dello zucchero, dell'acqua e un lievito istantaneo. Quello che uscirà sarà una torta. Zero tempi di lievitazione, zero tempo di maturazione. Sarà comunque digeribile. Cosa l'ha reso digeribile? Ebbè, la cottura. Durante la cottura il nostro impasto diventa più digeribile perché le proteine, denaturandosi, diventano più aggredibili dalle nostre proteasi e quindi più digeribili. Ma il punto fondamentale sono gli amidi all'interno delle vostre farine hanno una forma semicristallina. In quella forma i nostri enzimi non sono assolutamente in grado di digerirli. Ma se la cuocete in un ambiente umido gli amidi gelatinizzano in quelle condizioni i nostri enzimi sono in grado di digerirli. Ecco che la cottura predispone sia le proteine ma in particolare gli amidi ad essere digeriti da noi in modo semplice. E perché alcune pizze sono più pesanti? La massa non è stata cotta bene oppure il condimento è troppo pesante? Fate una prova a casa. Cuocete la vostra pizza senza condimento e aggiungetelo dopo la cottura e ditemi se è più digeribile. E buon appetito a tutti!